Il tema, quando c'è stata la prima convocazione, poi sconvocata per il dramma delle ragazze morte nel corso dell'Erasmus, sono le prossime elezioni amministrative, poi è chiaro che si parlerà dei temi d'attualità. Sicuramente sarà una direzione aperta, democratica, in cui la discussione sarà ampia, insomma quelle cose che fa solo il PD in questo paese.